E' appena partita una nuova stagione calcistica ed Antenna Sud, come sempre, risponde presente. Sabato pomeriggio alle 18.30 prenderà il via Antenna Calcio Show, 90 minuti di approfondimento e analisi da gustare a caldo, subito dopo la partita del Bari. Condotta da Carmelo Palumbo e Lara Torres, Antenna Calcio Show offrirà, con il consueto stile delle produzioni di Antenna Sud, reazioni dei protagonisti, dei tifosi e commenti con l'opinionista storico di Antenna Sud, l'ex bomber Maurizio Iorio, ma anche con gli ospiti in studio e con la pattuglia dei simpatici e collaudati guastatori del buon umore, Donato Barile, che si occuperà anche dei contatti diretti con i tifosi via web, e Giuseppe Grossi. Un appuntamento fisso del sabato sera alle 18.30, anche quando il Bari giocherà in posticipo o in anticipo. In quest'ultimo caso, Antenna Calcio Show si trasformerà in un dettagliato pre-partita. Non sarà trascurata anche la Serie A, considerata la concomitanza con gli anticipi del massimo campionato. Tra le novità di questa edizione, l'intervento dello storico radiocronista barese, Michele Salomone. Il taglio, come spiegherà domani sera il neodirettore di Antenna Sud, Mauro De Nigris, che illustrerà la nuova linea dell'emittente in merito agli avvenimenti sportivi, sarà naturalmente giornalistico, ma senza trascurare l'intrattenimento, con rubriche satiriche e divertenti imitazioni.